Siamo qui a Cagliari con il Cico in casa, io purtroppo in questi giorni non sarò in acqua, vengo da un infortunio a Lanca, quindi mi dispiace di non essere in acqua con tutti loro, però è bellissimo perché ovviamente avere l'italiano, poi subito dopo l'europeo, per il Cagliari comunque è importante e sono contenta di rivedere tutti.